allor candela sensore di movimento notte 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 attiva buonanotte fiorellini comunque dry si sta diradando anche a lei la cappigliatura ha molto bene il contatore è qui ho visto già la fiorella all'ingresso ok ho già acceso il contatore qui non fiorella quindi mi sa che il fantasma è da quelle parti qui però è fissuto un'opera aspetta fuori nevica fuori nevica quando il mondo non conta nulla non conta nulla e sopra e sopra cosa ha fatto cosa ha fatto ha parlato nel microfono non c'è anche dice la pietella sulle scale ragazzi fuori la temperatura nevini nevica quindi questo direttore c'è anche il contatore vabbè ora l'ho acceso qui si è alzata si sta alzando qua ha toccato qualcosa ha saltato il contatore porta ha toccato la porta vale è qui dove sono io questa no porta qua da me qualcuno ha un UV qui in fondo qua io si in pronta perfetto presa potrebbe essere il corridoio dai lascio qui la macchina autografica vado a prendere la macchina si si qui mi parla nel microfono beh c'è lo stellato ma vuole facci caso se ti fermi un attimo gli alberi si si riempiono di neve poi come ti muovi scompare la neve stavo fermo senza muoverti vedi che gli alberi si 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 riempiono di neve si 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 poi come ti muovi scompare tutto vabbè non è che possono vuoi pretendere che la neve resti lì vabbè ma la neve non si muove perché mi muovo io non è vero allora sfere non ne vedo al momento però la metto di là mh ha toccato un'altra porta porta che sia ovvi che mi ha fatto saltare il pontatore? si l'aveva fatto che avevo già saltare prima l'ho dovuto riaccendere questa qua l'ha toccato ora ok dove sei? ah non c'ho l'uvi però qua mi atterra c'è dove sei? c'è un'altra impronta eccola qua dove sei? dove sei? eh mi deve dobbiamo uscire sei qui? contatore riacceso sei qui? deve essere spenta la luce stai qui? stai qui? stai qui? sei qui? stai qui? ma probabilmente non mi va dove sei? 67 di medio dove sei? si accende la lucina rossa? la lucina rossa mia? sì quella del fantasma no? no quella del fantasma è rossa la mia è blu allora sì la blu sì quella rossa allora vuol dire che non ti sente ah non mi sente proprio no rosso quando si accende il fantasma vuol dire che ti ha sentito ma non ti sta rispondendo gente ma se ne frega lei salute chi è che ha fatto il rutto? è la signorina qua ah educata allora sì la bella spirit c'è una spirit nei paraggi da usare? sì eccola qui ah è là eh fantasma mi sente però mi sposterei più là dove sei vieni qui vieni qui me ne vado io l'ho buttata a terra senza volere perché non cammina più? mi sono bloccato non cammino vieni la spirit oddio io toglierei anche l'impostazione testuale perché è abbastanza imbarazzante vabbè dopo la tolgo dai per ora me la tengo ha aperto il rubinetto la fotocamera dove è la fotocamera? foto forse c'è un mf livello 5 vedo un picco a 6 eh aspetta se ce la faccio in tempo eh io non riesco a cambiare telecamera ce la faccio in tempo provateci voi eh ne vedo solo una porca con la foto sporca non mi dice niente allora ho buttato a terra l'altra vado a rimetterla su comunque però ne è arrivato a zero la temperatura ok ehm red prendi una pillola dopo sempre passo niente mi sa che non c'è no ci sono tutte e due allora non lo so marty non lo so perché da quello che ho capito ne volevano 24 e 24 sono i fantasmi quindi è difficile che ne vogliono aggiungere di più così pronto ancora qui sì comunque si fa una fatica tantissimo eh sì come interazione ok è pronto a digitare soltasi direi che temperatura no resta sempre sui 5 ciao buonasera oh vado a vedere ancora nel videocamco ah mmm no dunque non si muove più termometro 5 6 gradi eh ma prima era più basso non è che si sia un po' è qua dentro ragazzi è qua dentro porco 2 preso adesso si è qua dentro mi sta inchiappettando sulle scale ecco ecco adesso viene a prendere l'ultima pillola che c'è arrivo arrivo ma la mano la mano che ho sulla spalla è mia o è di qualcun'altra la mia la mano arriva cintura sola la colpa abbiamo ancora niente sono sicuro di avere la lingua che esce da sotto il mento però non credo che sia anatomicamente corretto sicuro che sia tua la lingua non abbiamo oltre l'ultra violetto non è che ci rimane molto vabbè vediamo un po' c'è un incenso in giro aspetta si c'è grazie un oggetto maledetto qualcosa niente no perché siamo alti direttamente sopra ok ha fatto il cravattino oh ma cannolicchio da manuale comunque bellissimo vabbè io lo metto qua nel bagno sto libro oppure l'MF mettiamolo qua nel bagno ed è congelamento signori è congelamento in un gind da lo stronzo che ma il fantasma no sei tu non ha le prove vabbè io mi fido del gin ma comunque è troppo difficile così il gioco guarda guarda non sono mai morto oggi pomeriggio mai sempre giocato alla perfezione colpa tua diciamo che certe chiamate non corrette ogni tanto mettono un po' di pericolo eh sì però in questo caso conveniva guardare prima se avesse se aveva cambiato stanza io ho fatto l'errore di entrarci prima di guardare la sanità però vabbè da diretta invece era un mimo e voglio e la sfera dov'era non c'era forse era là esatto ah vabbè ah ah non c'era non c'era